Re Carlo III ha cose più importanti nel suo piatto che riconciliarsi con il principe Ferri, ha affermato l'esperto reale Russell Myers. Apparendo sull'Orendi lunedì, Russell Myers ha affrontato le voci secondo cui il re Carlo III e il suo secondo figlio separato, il duca di Sussex, avrebbero trascorso un po' di tempo a chiarire l'aria a seguito delle recenti controversie sull'imminente incoronazione del monarca. Mentre iniziano i piani per l'evento del 6 maggio, il corrispondente reale Russell ha chiacchierato con Loren Kelly nel suo programma ITV, ma ha affermato che il re ha cose più importanti nel suo piatto che programmare una grande conversazione con il principe Ferri. Loren ha chiesto a Russell se ci sarebbe stato spazio per una riunione tra padre e figlio. Mentre ha chiarito che il re vuole il principe Ferri all'incoronazione e ama entrambi i suoi figli, Russell crede che avrà cose più urgenti su cui concentrarsi. La famiglia non ha davvero avuto il tempo di essere coinvolta in questo. Ma penso che sia abbastanza indicativo che il re abbia avuto una conversazione con lui, ha spiegato l'editore reale. Ha continuato. Vuole che sia lì, è ancora suo figlio, ama ancora entrambi i suoi figli. Certo, per l'amor del cielo, convenne Loren. Quello era sempre l'umore del palazzo che ama ancora entrambi i suoi figli allo stesso modo, ha sottolineato Russell. E se questa è una possibilità di riconciliazione? Non ne sono sicuro, ha aggiunto, mettendo in dubbio la speculazione. Sta per rimbalzare dentro e fuori, non è vero? Quindi non ci sarà davvero tempo, ha osservato Loren. Russell ha continuato. Non lo vedremo al balcone, non lo vedremo alla processione, proprio come Andrew. E non mi piace metterli entrambi nella stessa categoria. No, davvero no, ha chiarito il presentatore scozzese prima che Russell concludesse. Ma ci sono questi problemi della famiglia che devono essere risolti, ha continuato. Grazie a tutti.